Hai chiesto a Fernanda se vengono i suoi soci di Elvis? No, no, i soci di Elvis, io le Fernanda se li porto sempre a presso. A parte che i soci di Elvis si vedi a per tutti. Ma lei mi ha giurato, mi ha telefonato, mi ha giurato che in mezzo a noi c'è pure l'Elvis Vero, eh? Cioè, c'è pure l'Elvis Vero, eh? Ma pare che l'hanno visto. Il socio di Magalli, il socio di Magalli di otto anni. Ma pare che prende più di Magalli, veramente. Ma il socio di Magalli è stato fantastico, quella. Prende più di lui. Gli hanno detto, ma va a fare... E lui è capito che è andato a fare fantastico. Ha fatto un donfo, ha fatto un donfo clamoroso. E se pure è spezzato lo suo del capocollo. Stamia a sedia, io c'ho un informatore, c'ho una che mi passa, un Casuman al di fuori dei limiti del congebibile. E chi è Ferrara? No, è buonissimo questo. No, il Casuman è Ferrara. No, Ferrara è quello del Quintalone, l'abbiamo già fatto due volte. La dieta di Ferrara, già la ricetta te l'ha andata. No, no, ma Ferrara poi c'è Svonder Park. Quella volta con Ferrara abbiamo fatto... Due minuti e venti. Uno e mezzo di... E quella volta che abbiamo fatto due. Due. Duel. Due. No, due di sciare. Due di sciare abbiamo fatto. No, c'è quella che gli hanno attaccato la gamba al posto dell'orecchio. Minchia. Che verrebbe molto volentieri a fare un pezzo suonando la fisarmonica e... Guarda, quella suona coi piedi. Ecco, io questo lo chiamerei. Ma quello che gli hanno attaccato la terza gamba al posto del naso bisogna mandarlo dopo le 22. Sì, quello non possiamo. Però, beh beh, se facciamo la versione serale... Ma se non è un caso umano quello. Eh, quello sì, quello sì. Io penso... Come fa a soffersi il naso quello? Eh? Quello è soffermi il naso. Parvelo. Ma la notizia bomba del no bella fede, quando è che la spariamo? No, la notizia bomba del no bella fede? Sì. Eh, ti chiamo a Fernando, devi invitarlo. No, ma lo è vero, ma lo spariamo sul finale della trasmissione. Ah, la bucchia. No, ma... Però, dobbiamo stare attenti con i palli, perché già abbiamo sparato la palli la settimana scorsa. I palli. Con i palli. Con i palli. C'avevamo il gruppo dei tirolesi che sono venuti la settimana scorsa, quelli che hanno finito... Che avevamo i problemi di... Quelli che avevano i problemi di incontinenza, dai, su, eh, lui che sto a dire. Stanno ancora adesso a pulire lo studio. Stanno a pulire lo studio. E qui i costi salgono, e qui bisogna stare ai passi. Vabbè, però intanto... Alla produzione. Già il pubblico non lo dobbiamo più pagare. Perché... E che cazzo? No, ma quelli noi portiamo qua a divertirsi e li dobbiamo pure pagare. Vabbè. Quelli, una bottiglia di vino. Dopo col ven e smettum e posto. Come dicono i milani, dopo col ven e smettum e posto. Come dicono quelli del sud. Sera sull'inzio. No, ma che... E quando è che andiamo per font? Andiamo per font? No, è quello che mangia la pizza. A cavallo donato. La pizza con le lattine schiacciate sopra. Tutte schiacciate. Vabbè, quella, quella... L'ha visto, l'ha visto? No, no, no. Catania e... Complimenti, complimenti. Quella è buona. Complimenti. Comunque... E parla più vicino al microfono che non si sente un cazzo. I tirolesi, a parte il puzzo che ha lasciato tu in tutto lo studio, Io, a parte il puzzo, abbiamo fatto il pizzo. Ho lasciato il pizzo. No, il pizzo. Il maccio pizzo abbiamo fatto il pizzo. Abbiamo fatto il pizzo, il maccio pizzo. Il maccio pizzo. 28 e 2 di share. Dimmi tu quando facciamo... Io ne ho, io ne ho. Che manco con la sciangata australiana abbiamo fatto tante. Io c'ho un gruppo che si schiacciano i forungoli e vedono chi schizza più distante. Ah, buono questo? Questa, questa è fantastica. Allora, chi è che te la procura? Dopo si sono evoluto, adesso muociano anche il centro, no? E fanno vedere chi fa centro anche. Ah, sono eccezionati. Quindi è deprecisione. Ma questi non erano quelli che li aveva fatti vedere pure da De Filippi. Guarda, forse l'ha fatta De Filippi. Si metteva uno contro l'altro e poi si protestava pure perché la colpa era di mamma che aveva fatto, che gli aveva fatto il salame, quello piccante che gli era venuto tutto il forungolo. Tutta la faccia butterata. Tutta la faccia butterata. O vaiolo. O vaionte. O vaionte. Il mago che ho trovato io che cura le emorroidi è con l'ipnotismo. Allora, stiamo a non parlare... Delle emorroidi. I emorroidi con l'ipnotismo. Con l'ipnotismo. Questo è buono, eh? Non mi parla di emorroidi che... Questo è buono. Non è il momento. Il pinotismo sugli emorroidi. Il pinotismo. Stiamo a sentire, dei maghi non ne vogliono parlare. No. Abbiamo fatto il mago d'Arcella, il mago Gabriel, il mago Oronzo. Abbiamo fatto tutti i maghi del mondo. Io ho il mago e ho la radice di mandracola artificiale. Che è fatta questa? E non lo so, è artificiale, non è naturale. È l'unico... È una protesi. È una protesi di mano polivalente artificiale. È una protesi di radice di mandragola. Questo è buono. Sì, è in lattice, è una radice in lattice. E quello è interessante. E che ci fa? La radice di mandragola nel didone. E poi c'è radicato su. Sentite, è quello col boomerang che non torna indietro. Lo facciamo... L'abbiamo già fatto? Su Rai 2 l'ha fatto. Ah, quello l'ha già dato. Quello l'ha dato. No, però... Non gli schiappa niente. Però, un attimo, su Rai 2 l'hanno lanciato. Ancora quello non è tornato, per cui... Ah, non è tornato? No, ritorna in replica. In replica ritorna. 7-8 puntate su questo. Sì, esatto. No, ti ho visto quella dove lanciavano il cine Tortorese. Ah, umago. E ancora pure quello... E ancora pure quello... E ancora un attimo, umago. Non so più. Non so più. La radica uscitaria due settimane dopo. Chi sta insiste? Che tirava i boomerang? Umago, eh. Umago, non fa sconto. Umago, non fa sconto. Guarda, guarda. Boomerang è il nome giusto per la trasmissione tua. Perché quella proprio non torna più indietro. Boomerang. Oh, boomerang. Boomerang. A chi ha? A chi ha? A chi ha? Ma piace. Questo è proprio il titolo giusto. Boomerang. È bravo. Abbiamo fatto pure i nostri due minuti e venti. Ma l'ha registrato? No.